Beh, ripartiamo concentrati, ripartiamo determinati e ripartiamo preparati. Alle mie spalle i locali sottoposti a sequestro e interessati dall'incendio pochi giorni fa. Dall'altra parte della strada invece lo stabilimento della LEM Industries dove è ricominciato il lavoro. A soli quattro giorni dall'incendio che ha mandato in fumo un intero piano della LEM Industries nell'area industriale di Levane, riparte la produzione. Qui erano impiegati circa 100 dipendenti. Abbiamo passato queste 72 ore di continuo a riorganizzare tutti i turni, a riorganizzare le persone e a riorganizzare quella che è tutta la produzione. Oggi le 100 persone che facevano riferimento allo stabilimento che ha preso fuoco sono state riprotette all'interno degli altri stabilimenti dove abbiamo le altre lavorazioni. Le lavorazioni ne abbiamo perse un 10% delle 500 che avevamo, quindi in realtà è un minimo, è la minima parte. Questo per poter far sì di poter garantire comunque l'offerta del lavoro a tutti i nostri clienti. La notte stessa dell'incendio lei ci disse comunque è vero che adesso affrontiamo questo ma lavoriamo fin da subito per la ripartenza e così effettivamente è stato. Sì, era forse un azzardo quella notte fare questa dichiarazione ma conoscendo il DNA dell'imprenditore Daniele Gualdani, conoscendo tutti i miei colleghi, la forza, la giovane forza anche delle persone che sono qui presenti e anche la determinazione delle colleghe, perché qui abbiamo molte persone, molte donne che lavorano con noi, che sono davvero determinate e che hanno un affetto particolare per questa azienda. È stato un azzardo ma non sono stato smentito, merito loro e io così non ho fatto neanche una brutta figura. Tutta la comunità di Levane ha manifestato la sua vicinanza con aquiloni e messaggi affissi alle inferriate delle aziende, le due che sono state interessate dagli incendi, la LEM Industries e la Valentino Shoes. A portare i loro messaggi sono stati i bambini che hanno ricevuto la prima comunione. Sì, è stata un'improvvisata l'altra mattina quando sono arrivati i ragazzi, i bambini della prima comunione con il parroco e con alcune rappresentanti dell'istituzione. È stato veramente un bel contropiede, un bello scherzo che ci hanno giocato ed è stata anche l'occasione per dichiarare che da oggi saremmo ripartiti. E credo che Daniele Gualdani abbia colto l'occasione più propizia, ecco, quello di fare una dichiarazione di ripartenza di fronte alla propria comunità di riferimento. Grazie.